Questa è tutta la zona di rubble molto impegnativa da trenare la slitta e ho passato almeno un chilometro di questa zona e adesso mi dirigo verso nord verso il polo magnetico è molto dura è veramente difficile andare avanti oggi c'è anche un po di vento contrario che ti ghiaccia completamente il viso e comunque diciamo prosegue la marcia non ho fatto tanti chilometri per il momento perché la giornata purtroppo è veramente impegnativa spero di recuperarli nei giorni prossimi